Musica Meno contagi e meno tamponi nel bollettino di oggi, resta alto il numero dei morti 12 in Calabria sul fronte ai vaccini previsti nuovi Open Vax Day, protestano tabaccai, lavanderie ed edicolanti per l'obbligo del Green Pass da parte dei clienti. Un medico di Teramo arrestato a Catanzaro, il professionista avrebbe curato un paziente poi morto con un intruglio a base di funghi. A distanza di sei anni l'impianto di risalita di Lorica purtroppo registra un'altra vittima, adesso si richiude in attesa che la magistratura faccia chiarezza sull'accaduto. Inaugurata la mostra antimafia itinerante nella città dello Stretto, previste tappe in molte città italiane, il viaggio si chiuderà a Torino. Domenica iniziano con l'apertura della Porta Santa, i festeggiamenti per gli 800 anni del Domo di Cosenza e prevista la presenza del nunzio apostolico. Le tre squadre calabresi di Serie B non stanno rispettando le aspettative della vigilia. A Cosenza, Crotone e Reggio c'è delusione tra i tifosi. L'ultima settimana di mercato è occasione da non perdere. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro Tg. Prima battuta, un'ampia pagina dedicata al Covid. Inizio di settimana con un calo di contagi. Nella nostra regione purtroppo sono tanti morti, ben 12. La buona notizia è proprio il commissario per l'emergenza, il generale Figliolo, a darla oggi agli italiani perché comincia la curva discendente. Vediamo. Calano i contagi, 776 nel bollettino regionale di oggi, a fronte di meno tamponi effettuati, 5.422. Resta alto il tasso di positività, al 14,31%. Alto il numero dei morti, 12, di cui 5 a Cosenza, 3 a Crotone, 3 a Reggio Calabria e 1 a Vibbo. Segno meno ed è la prima volta dopo settimane per i ricoveri. Oggi arrivano le parole, quelle che il generale Figliolo, commissario per l'emergenza Covid, chiama a buone notizie. Siamo, dice, al plateau di Omicron. Si va verso la discesa. In Italia, inoltre, da circa una settimana, poco più di mille pazienti hanno avuto indicazioni ad assumere la pillola anti-Covid, ma nessun paziente finora è stato trattato in Calabria. Infine, sulla scuola ha istituito un tavolo tecnico sulle complicate quarantene. Obiettivo è sburocratizzare. Si accederà intanto sui vaccini. La settimana che si apre oggi sarà intensa per gli Open Vax Day. Vediamo. Prosegue la campagna vaccinale in tutta Italia, anche se negli ultimi giorni, fa sapere la Fondazione Gimbe, si registra un calo nella fascia pediatrica, perché molti sono in quarantena. Circa 90.000 unità, il dato che riguarda proprio il nostro paese. Ma la protezione civile regionale si dice soddisfatta per i risultati raggiunti dagli ultimi Vax Days. Questo fine settimana, come sapete, è stato dedicato a un lungo weekend di vaccinazioni, aperto a tutte le categorie, senza anche la necessità di effettuare una prenotazione. Da venerdì a domenica abbiamo registrato numeri importanti, oltre 46.000 somministrazioni, quindi con una media giornaliera di oltre 15.000 somministrazioni. Il dato più rilevante lo ha fatto segnare la prima somministrazione, che erano un po' quelle che ci preoccupano di più, perché riguardano tutti quei soggetti che ancora oggi non si sono vaccinati. In questi tre giorni siamo riusciti a vaccinare oltre 7.000 persone. Quindi è stato un risultato notevole. Evidentemente le persone cominciano a capire che il vaccino è un'arma importante per la lotta per la pandemia. E forse anche l'imminente entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass sta spingendo queste persone a sottoporsi a vaccinazione. Continueremo comunque con la nostra campagna vaccinale nei prossimi giorni. Su Cosenza sono previste una serie di istituzioni, di centri vaccinali presso le scuole sul territorio, che provvederanno alla somministrazione dei vaccini pediatrici per tutti i ragazzi al di sotto dei 12 anni, ma anche per coloro che avranno superato il dodicesimo anno di età è prevista la somministrazione presso le scuole che sono state allestite come dei centri vaccinali temporanei. Allo stesso tempo, sempre sulla provincia di Cosenza, nei prossimi giorni è previsto che vengano realizzate due giornate notturne di vaccinazione che si terranno presso il poliambulatorio di 4 miglia di rende e sarà possibile vaccinarsi a tutta la popolazione che abbia compiuto il dodicesimo anno di età a partire dalle ore 19 fino alle ore 23 e 50, diciamo fino alle 24. Quindi sono tanti gli appuntamenti, d'altronde da qualche giorno lo sapete è obbligatorio il Green Pass per entrare dal parrucchiere o dall'essesista e dal primo febbraio la certificazione verde sarà necessaria anche per gli uffici pubblici e poi anche per altri esercizi commerciali quali per esempio i tabaccai, le lavanderie ma come sta andando, cosa ne pensano i diretti interessati? Vediamo. Questa scena la vedremo sempre più spesso mostrare il Green Pass diventerà, almeno per i prossimi mesi, un'abitudine necessaria, anzi obbligatoria. Da quattro giorni è un rito da adottare anche quando si entra da parrucchieri e centri estetici. Penso che comunque le persone hanno capito l'importanza di avere il Green Pass e per me è un grande passavanti perché dovevamo pensare che senza il Green Pass si doveva andare verso chiusure visto magari i contagi. Oggi sono contento che siamo rimasti aperti e continueremo a lavorare. I clienti si stanno adeguando salvo qualche sporadica eccezione. Mi è capitata una signora e poi all'inizio diceva che comunque l'aveva però non l'aveva dietro e poi alla fine io per rispetto degli altri clienti che comunque avevo in salone ho rifiutato la cliente. Ma i problemi sorgeranno dal primo febbraio quando la nuova normativa entrerà in vigore anche per altre categorie costringendo gli esercenti a eseguire i controlli. Da un lato può essere una cosa giusta dall'altro può essere un problema perché comunque non essendo organizzati precedentemente lo troviamo difficoltoso ogni cliente è andare a controllare. Le edicole hanno subito un drastico calo di vendite molte hanno chiuso i battenti il Green Pass complica ulteriormente la situazione. Per noi è un guaio perché da noi i clienti sostano veramente pochissimo quindi perdiamo più tempo ad andare a controllare il Green Pass che a dare un giornale al cliente. È una situazione veramente disagiata per noi. Io sono da sola nelle edicole quindi sarà veramente un problema serio penso sia per me sia per tutti gli altri colleghi perché oggi nelle edicole tra l'altro dopo questa pandemia che c'è stata non si può stare più in due perché non ci sono più i margini per andare avanti. I gestori delle lavanderie lamentano la disparità di trattamento con altri esercizi dove la presenza dei clienti è di certo più duratura. Per me è sbagliato perché comunque la gente entra ed esce subito quindi non ha senso anche perché poi al supermercato non lo chiedono e la gente ci rimane fa la spesa ci rimane più tempo invece qua sinceramente non lo trovo giusto. Contraria anche ai tabaccai anche qui una sola persona dovrà sdoppiarsi per gestire evidimazione del certificato verde e vendita. Io sono a favore comunque del vaccino perché io comunque ho già le tre dosi per cui ho seguito le indicazioni governative però non mi sembra corretto perché noi abbiamo lavorato in piena pandemia con tutto il pericolo che c'è stato senza avere nulla e in questo momento dopo tre anni ci obbligano insomma a controllare qualcosa di cui lo Stato dovrebbe assursi la responsabilità. La cronaca adesso prescrive un mix di funghi per curare un paziente campano che purtroppo poi è deceduto arrestato e posto ai domiciliari dalla polizia di Catanzaro un medico no vax vediamo Avrebbe prescritto ad un paziente cure alternative intruglie a base di funghi sconsigliando nel ricovero il paziente è deceduto e il medico è finito ai domiciliari con l'accusa di omicidio colposo l'arresto è stato eseguito dalla Digos su richiesta della procura di Catanzaro il medico un ginecologo di Teramo conosciuto come Novax avrebbe curato per telefono con terapie alternative il paziente residente in Campania affetto da molteplici e gravissime patologie come cardiopatie, ipertensione e diabete deceduto poi per infarto il giorno prima del decesso avvenuto in Campania la moglie dell'uomo aveva chiamato il medico che le aveva sconsigliato nuovamente di portarlo in ospedale suggerendole nuovamente i suoi funghi curativi il telefono del ginecologo già destinatario di un provvedimento non definitivo di radiazione da parte dell'ordine dei medici di Teramo era però sotto controllo le intercettazioni erano state disposte alla procura di Catanzaro nell'ambito di un'altra indagine ancora in corso nei confronti del professionista è così che è emersa la vicenda del paziente Campano la procura ha quindi chiesto l'emissione di un provvedimento urgente per evitare la reiterazione del reato e il GIP l'ha accolta pur dichiarandosi incompetente territorialmente gli atti sono stati trasmessi a Teramo secondo l'accusa il medico avrebbe proposto curi alternative alla medicina ordinaria prive di validità scientifica anche in relazione ad una paziente affetta da Covid una domenica di dolore quella di ieri in Sila l'orica muore nel corso di un controllo il direttore d'esercizio degli impianti di risalita adesso di nuovo sotto sequestro a Cotronei sulla strada statale 107 un terribile incidente con sette feriti vediamo un normale controllo di routine si è trasformato purtroppo in una tragedia erano da poco passate le 8 si stavano facendo dei normali controlli alla stazione di partenza degli impianti di risalita di lorica prima dell'apertura ai turisti presente il direttore d'esercizio l'ingegnere Alessandro Marcelli ancora al vaglio degli inquirenti quanto accaduto ma Marcelli sarebbe stato colpito da una cabina in movimento è caduto a terra e ha violentamente battuto la testa i soccorsi sono stati rapidi ma non ce l'ha fatta Alessandro Marcelli 58 anni era il direttore del settore infrastrutture e patrimonio delle ferrovie della Calabria ed aveva assunto anche l'incarico di direttore di esercizio degli impianti di risalita di lorica e camigliatello impianti maledetti quelli di lorica visto che già nel dicembre del 2016 furono teatro di un incidente che provocò la morte di un operaio e il ferimento di un altro poi il sequestro a seguito di un'indagine della DDA di Catanzaro su alcuni appalti e solo il 29 dicembre scorso erano stati riaperti al pubblico adesso sono stati nuovamente sequestrati dalla procura di Cosenza per consentire gli accertamenti tecnici di legge ieri i vigili del fuoco hanno anche a lungo lavorato per far scendere da due cabine alcuni operai che erano rimasti bloccati dopo l'arresto dell'impianto ed è stata davvero una domenica di dolore visto che è sempre in sila sulla statale 107 nei pressi di Cotronei un terribile scontro tra due vetture ha provocato sette feriti tra cui due bambini alcuni dei feriti sono stati estratti a fatica dalle lamiere contorte il fatto non costituisce reato è quanto ha deciso il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Cosenza nella sentenza emessa in merito alla posizione del presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio e del responsabile del settore giovanile della società Sergio Mezzina accusati di maltrattamenti nei confronti del giovane Pietro Junior Santa Paola ex giocatore delle giovanili del Cosenza il calciatore secondo la denuncia presentata dall'avvocato Salvatore Silvestro nel marzo del 2021 all'epoca minorenne era stato allontanato dalla squadra per il suo cognome ingombrante perché il padre sarebbe legato agli ambienti della criminalità organizzata siciliana oggi invece è la sentenza che non riconosce colpe ai vertici della società Rosso Blu ci riserviamo di leggere le motivazioni addetto a Lanza Salvatore Silvestro legale di Santa Paola e valuteremo se ci sono presupposti per un'impugnazione anche solo in sede civile chiesto il rinvio a giudizio da parte della procura di Salerno per l'avvocato e attuale sindaco di Rennes Marcello Manna e per Marco Petrini ex presidente di sezione della corte d'appello di Catanzaro compariranno davanti al giudice per le udienze preliminari il 24 marzo prossimo dovranno rispondere di corruzione in atti giudiziari adesso ci spostiamo nel Regino alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni praticamente vietata ai diversamente abili occhi a problemi di deambulazione vediamo possibile che gli utenti calabresi non protestino ne dicano una sillaba i loro parlamentari e consiglieri regionali intanto è l'utenza messinese a denunciare la difficilissima situazione nel sottopasso della stazione ferroviaria di Villa San Giovanni con questo filmato che mostra due donne con problemi di deambulazione che raggiungono i binari oltrepassando in qualche modo le scale aiutate da parenti e da qualche passante dal cuore tenero siamo nel 2022 eppure l'infrastruttura villese è sostanzialmente inibita ad anziani disabili e portatori di problemi temporanei di deambulazione alla faccia delle mille belle parole sulla necessità di costruire infrastrutture accessibili e rendere conformi quelle che esistono certo tramite le sale blu con Station Manager RFI società del gruppo ferrovie dello Stato che si occupa di reti si possono prenotare servizi dedicati ai passeggeri a ridotta mobilità servizi che però non sono gratis visto il video ho provato una vergogna infinita evidenzia il deputato regionale di 5 Stelle Antonio De Luca che ha subito scritto RFI per sollecitare un intervento urgente la cui mancata realizzazione spontanea appare molto discutibile oggigiorno evidenzia il politico siciliano è inconcepibile che una stazione ferroviaria non sia dotata né di scale mobili funzionanti né di un montascale a un ascensore quanto avviene alla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni non è degno di un paese civile scrive indignato l'esponente pentastellato chiedendo a RFI che vengano rispettate le leggi nazionali e comunitarie adeguando subito la stazione di Villa senza attendere i fondi del PNRR o lo spostamento della stazione a Catona Bolano cui Mario Mega presidente della competente autorità di sistema portuale guarda con interesse emergenza processionaria anche in Calabria al via il piano della regione per contrastare l'avanzata del parassita stanziati 4 milioni di euro l'assessore Gallo ai nostri microfoni dice l'obiettivo è difendere le specie forestali di Pino Lariccio vediamo la regione Calabria in campo per arginare l'emergenza processionaria con uno stanziamento di 4 milioni di euro programmato già dalla precedente giunta regionale e confermato dall'attuale governo è stato elaborato un programma di interventi un programma di interventi che sarà in 4 step in un primo tempo con le strumentazioni acquistate gli operi di Calabria Verde non solo cominceranno con delle cesoie lunghe fino ad 8 metri a tagliare i nidi accumularli e bruciarli in una seconda fase ci sarà la sistemazione di anelli sui tronchi dei pini per evitare che questi bozzoli quando si schiudano e da questi bozzoli nascono dei bruchi dei vermi grossi che tendono a scendere sul terreno questi anelli possano bloccare questi vermi poi durante l'estate la sistemazione di un certo numero di trappole a ferronomi per ettaro per acquistare per 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 catturare gli esemplari maschi ed infine a settembre dopo l'antincendio boschivo l'utilizzazione delle autobotti per fare lotta biologica attraverso proprio per l'utilizzazione di sostanze finalizzate alla lotta biologica incidente stradale nel pomeriggio sulla 2 del Mediterraneo in direzione nord nei pressi dello svincolo di Campotenese siamo in provincia di Cosenza un tir con un carico di surgelati per cause ancora in corso d'accertamento è finito fuoristrada e ha divelto un guardarail ferito il conducente del mezzo pesante che è stato soccorso e trasportato nell'ospedale di Castrobillari le sue condizioni secondo quanto riferito non sarebbero gravi cambiamo ancora argomento la DIA compie 30 anni il compleanno celebrato con una mostra inaugurata a Reggio Calabria vediamo taglio del nastro a Palazzo Alvaro nella città dello Stretto per la mostra antimafia itinerante che racconta 30 anni di attività della direzione investigativa antimafia resterà aperta al pubblico fino al 27 gennaio la mostra farà tappa a Catanzaro e in altre città italiane un viaggio che si concluderà il 25 maggio a Torino consegneremo il testimone dell'antimafia itinerante da la DIA a una fondazione di Maria Falcone nella fondazione Falcone che comincerà da quel momento il suo itinerario per il trentennale della strage di Capaci le nostre prospettive sono come di continuare sulla strada intrapresa in tutti questi anni non dare tregua a criminalità organizzata a colpire i loro patrimoni nel ricordo di Giovanni Falcone che vuole la distribuzione della DIA Nel corso dell'iniziativa a cui ha preso parte il vicepresidente della giunta regionale Giussi Princi il direttore della DIA si è soffermato sulle sfide affrontate durante la pandemia grandi sfide sono quelli di impedire alla criminalità organizzata di mettere le mani sui fondi europei del Recovery Fund gran parte dei fondi che sono arrivati sono destinati alla sanità al contrasto di questa terribile pandemia e sarà il nostro compito impedire che anche un uno solo di questi euro possa finire nelle mani della criminalità organizzata Domenica ci spostiamo a Cosenza iniziano con l'apertura della Porta Santa i festeggiamenti per gli 800 anni del Duomo di Cosenza sarà presente il nuzio apostolico vediamo Tutto pronto per le solenni celebrazioni in occasione degli 800 anni della consegrazione della Cattedrale di Cosenza nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile la conferenza stampa per illustrare le iniziative per celebrare l'evento l'anno giubilare si aprirà domenica prossima 30 gennaio con l'apertura della Porta Santa alla presenza del nuncio apostolico è un momento importante perché dice che da 800 anni questo ambiente questo borgo questa parte della città è stata sempre viva è stato sempre il centro il cuore della della diocesi e questo ci dice come è importante riportare nuovamente vita in questo centro storico un grande evento dunque per l'intera città di Cosenza gli 800 anni della consacrazione della Cattedrale sono un segnale importante di vita per questa comunità significa che nonostante l'abbandono che ha subito nel corso degli anni il nostro centro storico comunque c'è una parte pulsante della sua storia della sua cultura della sua tradizione che oggi può essere rinverdita in occasione proprio di questo evento il giubileo della Cattedrale di Cosenza si concluderà il 12 febbraio del 2023 l'anno di festeggiamenti sarà caratterizzato dunque da numerose iniziative religiose culturali musicari memoriali che porranno al centro dell'attenzione la chiesa madre dell'intera diocesi simbolo religioso storico e culturale della città di Cosenza importante anche il significato della stauroteca custodita all'interno del museo diocesano è il segno di questa unificazione laica e religiosa della città di Cosenza che fu donata da Federico II all'arcivescovo Luca Campano che era il segretario di Gioacchino da Fiore fu donata alla città di Cosenza e ancora è nel nostro museo ed è proprio il segno insieme alle pietre della cattedrale è il segno di questi otto secoli passati e speriamo anche del nostro futuro lo spettacolo adesso giovani e meno giovani tutti apprezzano la musica di Fabio Concato romantico cantautore che rende attenuto l'unico concerto del musico ambulante tour 2022 promosso dall'associazione culturale 900 con tante emozioni per il pubblico vediamo musica che raccoglie e accoglie appassionati di diverse età quella di Fabio Concato arrende l'unica tappa calabrese del musico ambulante tour 2022 anteprima speciale della rassegna di teatro e musica primo atto promossa dall'associazione culturale 900 niente spazio per i fronzoli musica e basta perché lui la vuole così non li ho mai amati gli effetti speciali quindi c'è molta musica c'è qualche chiacchiera poi a seconda di quello che mi viene in mente di quello anche che succede a volte durante la stessa giornata del concerto le canzoni di Concato non mostrano i segni del tempo e continuano a raccontare in maniera magari intima le piccole e grandi storie della quotidianità con grandi emozioni per il pubblico ma emozioni volute e cercate anche dallo stesso cantautore spero di sentire delle emozioni e di farle sentire insomma perché poi questo è il senso di fare musica e di darla agli altri sento delle bellissime vibrazioni insomma come sempre tra l'altro è quando vengo in Calabria a volte di più a volte di meno però insomma che ci sia stima e affetto quello è proprio innegabile una dichiarazione d'amore quindi che registriamo e riponiamo tra le nostre cose più care insieme a nostalgie speranze lampida allegria e grande tenerezza tutte le emozioni che popolano le sue canzoni tu che sei nata dove c'è sempre il sole sopra uno scoglio che ci si può tuffare il calcio è il mister Stellone il tecnico chiamato a sostituire Mimmo Toscano sulla panchina della regina Stellone è il terzo allenatore stagionale per la squadra di Luca Gallo e domani alle 11 è prevista la presentazione intanto deludono le tre formazioni di serie B calabresi non solo per gli ultimi risultati ottenuti ma soprattutto perché ci si aspettava qualcosa di più dal calcio mercato invernale vediamo il calcio calabrese che frequenta il palco scenico della serie B è a dir poco povero di risultati e di ambizioni le tre squadre si muovono nella nebbia della mancata programmazione si viaggia a Tentoni dove è finita la determinazione della regina accreditata alla vigilia quale è candidata al salto di categoria impossibile ad oggi nonostante i tentativi che hanno portato la società a cambiare tre volte tecnico e il Crotone squadra piena di ambizioni nobile decaduta rimaste però solo sulla carta e il Cosenza beh qui in Terra Abruzzia aleggia l'ombra dell'epilogo annunciato nulla si intravede programmazione prossima allo zero organizzazione inesistente qualità della rosa improponibile per un campionato tosto come la Serie B tutte e tre le sorelle aspettano di invertire la tendenza investendo si fa per dire soldini per attrezzarsi meglio nella finestra di mercato ma a scrutare quotidianamente le news di buone nuove non ce ne sono mai fino ad ora si era registrato uno scollamento così evidente e palpabile con i tifosi a Cosenza per esempio nell'ultima bilente esibizione casalinga è stato toccato il fondo solo 892 presenti numeri che raccontano il deterioramento del rapporto con il tifo organizzato e non come se ne esce? beh mettendo a fuoco le criticità ed intervenendo per risolverle con decisione nel caso della squadra asilana attrezzare la compagine con calciatori funzionali pronti e di categoria il tempo necessario per recuperare c'è ancora a patto però che ci sia la volontà di agire restano 7 giorni per verificarlo ma i rumors sembrano restituire un preoccupante immobilismo chiudiamo con le notizie dalla borsa chiusura in rosso per le borse europee mentre Wall Street prosegue in calo l'attenzione è prevalentemente rivolta alla riunione della Fed in calendario mercoledì in cui la banca centrale dovrebbe annunciare un aumento dei tassi di interesse a marzo e una riduzione del bilancio entro la fine dell'anno per contrastare l'inflazione nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali che fin qui ha fornito indicazioni in chiaro scuro e in settimana vedrà i conti di colossi come Apple, Boeing GE, 3M Deutsche Bank Microsoft, Samsung e Tesla per quanto riguarda l'agenda macroeconomica gli indici PMI dell'Eurozone hanno evidenziato un parziale rallentamento della crescita a gennaio complice alla diffusione della variante Omicron sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche per un possibile attacco russo all'Ucraina che potrebbe portare a sanzioni e ripercussioni anche in Europa alla luce dell'attuale crisi energetica così il Futsimil di Milano e il Caccaranta di Parigi chiudono il rosso del 4% male anche il DAX di Francofort a meno 3,7 l'Ibex 35 di Madrid a meno 3 e il Fuzzi 100 di Londra a meno 2,6% oltre a Oceano accelerano a ribasso il Dow Jones a meno 2,4 l'S&P 500 a meno 3,1 e il Nasdaq a meno 3,8% sul Forex l'eurodollaro scende a 1,131 mentre il dollaro yen si attesta a 113,9 in calo le quotazioni del greggio con il Brent a meno 2,7% a 85,6 dollari il VTI a meno 3,8 sull'obbligazionario il BTP Bund si amplia a 138 punti base con il rendimento del decennale italiano all'1,28% nel giorno in cui hanno preso il via le votazioni in Parlamento per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica tornando a Piazza Affari le vendite colpiscono tutte le società del Fuzzi Mib e in particolare Stellantis a meno 7,4 Iveco a meno 7,1 CNH a meno 6,6 ed Exor a meno 6,4% limitano i danni le utilities con Enel e Snam che hanno staccato oggi l'acconto sul dividendo grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight è tutto ci fermiamo qui grazie per essere stati con noi grazie il reggì a Michele Cava e messi in onda a Giuseppe Costanzo vi auguriamo un buon proseguimento